buon di buona gente sono luigi in arte illusio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con i libri del club letterario oggi mese di dicembre siamo arrivati proprio a al alla fine di questo primo anno di club letterario dei lettori vesuviani e il tema del mese di dicembre tema libero i libri che c'erano che erano stati proposti non avevano un tema portante non c'era un argomento in comune abbiamo scelto il libro del mese un po a scatola chiusa un po per curiosità e senza porci dei paletti su gli argomento da trattare per questo mese bene e bando alle ciance di quale libro si tratta ecco a voi ecco qui il soccombente di thomas bernard allora di cosa parla questo romanzo anche abbastanza breve allora siamo in austria e un uomo il narratore di questa storia un narratore senza nome entra in una locanda e intanto che sta entrando in questa locanda pensa e pensa e pensa e pensa e ricorda e rimembra e valuta e considera per pagine pagine e intanto è entrato in questa locanda ha chiamato la proprietaria e al bancone che aspetta si guarda intorno e pensa e pensa e valuta e ricorda e considera e analizza e mette in chiaro e arrivati all'ultimo quarto di romanzo la vicenda si svolge già sento qualcuno di voi che dirà ma che razza di libro è ragazzi è un romanzo un libro che io ho amato non scherzo se vi dico che guardate siamo proprio a pochi giorni dal dalla fine dell'anno e non so se avrò già postato avrò già realizzato il mio video sulle migliori letture di quest'anno se l'ho già fatto avrete già visto un poco i romanzi che ho inserito e quindi avrete visto che ho inserito anche questo questo romanzo è entrato proprio in calcio d'angolo proprio non so se la definizione corretta ma vabbè perché ragazzi veramente io l'ho amato questo romanzo non lo so per quale motivo sarà che mi sono perché mi sono riconosciuto in molti passaggi sarà che lo stile introspettivo che il genere introspettivo è il mio genere è uno dei miei generi preferiti in assoluto che proprio l'introspezione il flusso di coscienza che è una cosa che a me mi incanta particolarmente è trattato in maniera magistrale ma devo dire ragazzi questo libro mi ha conquistato io me lo sono letteralmente divorato in in tre giorni anzi no in due giorni perché sì ho iniziato a leggerlo la sera del del tot me del tot giorno e nel corso degli ultimi due giorni l'ho terminato ragazzi per me è stato veramente uno di quei libri che mi hanno incatenato dalla prima all'ultima pagina e beh ma devo spiegarvi un po anche per quale motivo soprattutto devo spiegarvi un poco questo romanzo altrimenti vi ho detto la trama apparente e poi mi avete visto molto entusiasmato e sicuramente vi starete tutti chiedendo come mai beh come vi ho già detto tre quarti di questo romanzo si concentrano sul flusso di pensiero di questo narratore che è entra in questa locanda e si guarda intorno chiama la locandiera e intanto pensa e rimugina tra sé valuta e ricorda passa in rassegna il suo passato la sua vita per pagine 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 alle volte anche con molte ripetizioni e già questo ragazzi dovrebbe già questo per me è un pregio ti fa capire anche quanta differenza passa tra il tempo materiale che noi impieghiamo per compiere un'azione semplicissima come è quello di entrare che so in una locanda ma anche in un bar in un albergo metterci al bancone chiamare il proprietario e aspettare che questo proprietario avvenga nel nella vita comune nel tempo normale tutta questa operazione non richiederebbe che pochi secondi nemmeno un minuto eppure invece se lo valutiamo con il tempo della mente dei nostri pensieri dei ricordi il tempo si dilata si dilunga e quelli che possono essere un 30 secondi diventano minuti 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 anzi quasi ore direi e cosa cosa ci sono quali che pensieri sono questi e soprattutto quali sono i pensieri di questo narratore bene questo narratore il la voce narrante la voce pensiero di questo romanzo considera parte dal dai motivi per cui l'hanno spinto a venire anzi a ritornare in austria sua terra d'origine ma che lui ha abbandonato da da anni per trasferirsi in terra di spagna una terra lui più con geniale a differenza della fredda e molto odiata austria e è ritornato non vi dico per quale motivo ma i motivi che lo hanno spinto a ritornare lo portano a rivalutare una parte della sua vita quella in cui lui immaginava assieme ad altri suoi amici di diventare un grande musicista un grande pianista attraverso questa la storia quindi ripercorriamo quindi nei suoi pensieri la vicenda di questo narratore ma soprattutto la vicenda di quelli che sono i veri protagonisti di questo racconto ovvero i suoi due amici i suoi due compagni di di oratorio al mozarteum o al mozarteum di vienna ovvero vertimer che è il soccombente che dà il titolo al romanzo e glenn gold un pianista realmente esistito tutti questi tre personaggi questi tre protagonisti hanno il sogno di diventare dei grandi suon dei grandi pianisti ma c'è una differenza tra loro tre i primi due il narratore e vertimer sono bravissimi sono eccezionali sono sicuramente i migliori del loro corso ma glenn gold a differenza loro è non è austriaco ma è canadese glenn gold è diverso da loro perché lui non è un bravo pianista lui è un pianista lui è su un piano completamente diverso da loro lui non è semplicemente bravo lui è un genio vi ho detto ragazzi che glenn gold è realmente esistito e io non lo conoscevo fino a quando non ho letto questo romanzo e infatti mentre leggevo mi è salita la curiosità di vederlo di soprattutto di sentirlo e questo già all'inizio del romanzo e quindi non sapevo ancora c'è i suoi aspetti che poi in seguito ritrovai nel romanzo ma vedendo le riprese di alcuni concetti che ha tenuto mi ha particolarmente colpito già il suo modo di suonare io allora di musica non ci capisco nulla quindi non so quanto uno quanto un musicista dia una sua interpretazione in in campo musicale non so come si faccia comprendere la differenza tra la matrice originaria di una composizione e l'interpretazione che il musicista ne dà perché ve l'ho detto ragazzi io non sono musicista a differenza di buona parte del resto della mia famiglia tutti i musicisti e io sono orgogliosamente attore ok e quindi mi è un po' mancato questo aspetto che mentre vedevo e sentivo glenn gold che suonava non riusciva a comprendere bene i dettagli proprio tecnici della sua bravura però comprendevo che stavo vedendo un personaggio molto particolare perché lui aveva questo modo di suonare molto strano io ho visto dei pieni o mio cugino che suona il pianoforte pure direttore d'orchestra adesso che ha un suo stile di suonare particolare ma è molto composto sempre molto dritto molto assorto e invece glenn gold come lo vedevo io era tutto raccolto su se stesso tutto raggrinzito e soprattutto vedevo che aveva questa tendenza a muovere le labbra a tempo come se lui stesse cantando la musica come se stesse cantando le note e quindi lo vedevo che faceva così e devo dire io già solo vedere questo detto ma questo qui quest'uomo o è un pazzo o è un genio e ormai saprete che sicuramente la differenza tra pazzo e genio è una differenza molto molto labile in effetti poi mi sono andato ad informare anche un poco sulla figura di glenn gold e ne è uscito proprio un personaggio molto sopra le righe ed è quello che emerge anche da questo romanzo un non un semplice musicista proprio un genio e io devo dire dopo averlo terminato che l'ho terminato proprio da poco di leggere proprio ho voluto parlare proprio che avevo proprio con la mente ancora fresca fresca di pensieri e quindi devo dire adesso penso che adesso che ritornerò a riascoltare che sono le variazioni goldberg di glenn gold qui sempre parecchio nominate suonate da 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 gold e la riprese le riprese proprio di lui che suona penso che le vedrò con un con un occhio completamente differente sapendo che veramente mi trovo davanti a una persona dalle doti per niente comuni quasi praticamente anomale ebbene quindi se questo personaggio questa personalità perché stiamo parlando di una persona realmente esistita ha colpito me lettore alla che non lo conosceva totalmente negato con la musica che non ci capì totalmente ignorante in ambito musicale posso solo immaginare cosa sia stato per i personaggi immaginari di questo romanzo soprattutto per il soccombente che del titolare romanzo ver timer ecco questo è tutta la tutto lo spazio che occupano i pensieri del narratore intanto che entra nella locanda chiama la locandiera e aspetta di l'arrivo di quest'ultima conosciamo non solo glenn gold che è un personaggio che nel suo è molto presente ma nonostante sia molto presente sia molto descritto e venga e ci venga descritti in tutte le sue sfumature sembra quasi un soggetto inarrivabile quasi come se fosse una l'unico per quasi come se gli altri personaggi immaginari fossero persone reali e glenn gold che è un personaggio reale sia l'unico personaggio immaginario e quindi totalmente lontano talmente lontano che per un perché per noi lettori è difficile raggiungerlo mentre invece molto presente non tanto il narratore il narratore nella sua rassegnazione nella sua già presa di coscienza di non poter essere di non poter realizzare le sue aspirazioni giovanili e quindi già rassegnato e tranquillo in tutto ciò è molto più presente il personaggio del soccombente ovvero ver timer che a differenza del narratore pur essendo consapevole di non poter mai raggiungere la bravura di un glenn gold comunque non si rassegna ciò e anche quando si rassegna si dibatte si non si dà pace se si autodistrugge in questo suo fallimento personale ecco una cosa che emerge molto da questo romanzo che forse potrebbe non piacere a tutti perché io sono consapevole ragazzi che il genere introspettivo soprattutto per quanto riguarda il flusso di coscienza che giurisianqua è molto giurisiano devo dirlo lo stile con molte ripetizioni un continuo intercalare del tipo pensai 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 che ripetuta all'infinito cette frasi che nello stesso periodo sono ripetuti quasi tre volte di fila e devo dire è una lettura che può sembrare pesante per chi non è abituato a questo genere per cui vi consiglio di non lasciarvi troppo fuorviare dal mio entusiasmo io sono entusiasta perché è un mio genere preferito ma sono consapevole che questo tipo di romanzo può non piacere a tutti anzi può difficilmente può piacere a qualcuno che prova ad approcciarsi a questo stile per la prima volta quindi andateci con una solida preparazione con i piedi di piombo mi raccomando perché potreste rimanere delusi o amareggiati e amareggiati soprattutto per il senso per il contenuto di questo romanzo Thomas Bernard come ho visto non ho ancora letto niente di lui ma penso che recupererò in futuro Thomas Bernard è caratterizzato da un suo da un profondo nichilismo da un profondo pessimismo in lui non c'è quasi nulla di positivo ma niente l'unica nota positiva è rinunciare ad avere aspettative infatti il narratore penso sia l'unico personaggio veramente felice proprio perché lui rinuncia a sognare rinuncia a sperare rinuncia a crearsi delle aspettative positive rinuncia addirittura a lottare per se stesso perché un altro personaggio forse molto più presente in questo romanzo è il disincanto totale dall'esistenza che qui viene chirurgicamente spogliata di qualsiasi suo aspetto positivo come posso dire l'arte che è molto presente viene vista come solo come una fonte di sofferenza la filosofia viene ridotta è stata viene ridotta ad un almanacco pieno di aforismi che sanno tanto di frasi fatte la famiglia è un covo di serpenti la giustizia è un modo che l'uomo ha creato per fare del male ai suoi simili e sfogare la sua rabbia e il suo malessere interiore e le nostre aspirazioni sono solo tentativi freudiani di ferire i nostri genitori ecco come potete vedere uno scenario molto tormentato molto pessimista e allora e poi e soprattutto emerge molto un un aspetto che a a me ha ricordato molto la la lezione dell'amadeus della del mito proprio di mozart e della della rivalità di di salieri che si sente oppresso dalla grandezza di mozart ecco ecco l'abbattimento il senso di aver già perso in partenza quando vediamo che c'è qualcuno mille volte migliori di noi che è già destinato a quel successo a cui anche noi aspiriamo ecco in questo aspetto il personaggio del soccombente divertimer risulta essere uno che qua a un certo punto quasi gode nel sapersi sconfitto ma ma in questo deve trascinare con sé anche chi non c'entra nulla quasi come quelle persone che per timore di morire da soli arrivano ad organizzare i suicidi di massa perché hanno detto almeno se devo finire in questa spirale di autodistruzione cerco di portare con me quante più persone possibili come a dire mal comune mezzo gaudio e devo dire per quanto sia molto cruda molto pesante anche come argomentazione è qualcosa che a me è piaciuto perché come vi ho detto io mi ci sono riconosciuto in mi sono riconosciuto in molti passaggi non sono nel campo della musica ma ma sono sempre ma sono del campo del teatro e più o meno le cose non cambiano ho avuto anch'io i miei glengold personali non mi sono arreso come fa il narratore che decide di lasciar perdere tutto e non mi sono lasciato andare nemmeno come soccombente però comunque diciamo ho avuto determinati pensieri ho avuto anch'io momenti in cui mi sono sentito veramente demoralizzato in un campo cioè come posso dire vedete io soffro di soffro da sempre di una di un complesso di di inferiorità e mi basta un niente per abbattermi e per precipitare in una spirale di autocompatimento derivato dal dal mio non sentirmi adeguato in quello che faccio a maggior ragione poi quando tendo a mettermi a confronto con gli altri che è una cosa che io faccio sempre nonostante tutti quanti mi mi invoglino a non farlo mai però purtroppo è una cosa più forte di me magari negli ultimi anni essendo maturato un po' essendo mi forza avendo rafforzato alcuni miei punti più deboli accuso di meno il malessere che mi deriva da da questo mio complesso di inferiorità ma comunque non è una cosa che posso scacciare via con facilità non è una cosa da cui si guarisce come da dall'allergia che ti prendi un antistaminico e tutto passa purtroppo non è così facile è una cosa che con la quale comunque uno impara a convivere l'importante è non lasciare mai che questo senso di inferiorità ti 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 porti ad arrenderti io infatti non mi sono mai voluto arrendere nonostante in molti frangenti della mia vita io vedendo che altri miei colleghi altri miei amici altri miei compagni hanno avuto fortuna in questo campo ma non per forza anche solo il campo del teatro anche il campo del lavoro il campo di studi vedendo che gli altri andavano avanti e io invece rimanevo indietro come un atleta azzoppato mi faceva sentire ancora peggio e quindi mi spingeva sempre più in una sorta di di gorgo che rischiava di essere autodistruttivo per fortuna ho avuto persone che mi sostenevano ho avuto degli aiuti ho avuto possibilità di rifarmi di ridimensionare non solo me stesso non solo i miei successi personali ma anche i successi degli altri e ciò mi ha portato a cerca ad approcciarmi a questo a questa mia debolezza caratteriale in una maniera non dico più 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 forte ma almeno più consapevole più matura e devo dire leggere gli aspetti i vari timori le paranoie anche di ver timer del soccombente mi ha riportato a riconsiderare un poco il me stesso più adolescente il me stesso più piccolo il me stesso che tendeva molto alla depressione e mi ha portato molto ad auto analizzarmi soprattutto con l'ottica adesso non più di un ragazzo ma di un uomo e anche per questo devo dire è un romanzo questo il soccombente che mi è piaciuto tantissimo penso sia il primo romanzo del nostro club dei lettori vesuviani a cui mi sento di dare un voto pieno proprio un voto pieno 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 niente proprio in meno proprio è stato ecco è l'esatto opposto del della strage degli imbecilli a cui ho dato il voto più basso in assoluto a questo per il momento proprio il voto più alto e sono contento di averla di averlo letto sono contento di aver scoperto Thomas Bernard che non conoscevo ho saputo poi andandomi un po ad informare già questo era uscito fuori quando al nostro ultimo incontro quando abbiamo deciso di leggere questo libro che questo era questo romanzo il soccombente era il primo capitolo di una trilogia e andandomi ad informare ho visto che in effetti sì è il primo romanzo che compone una trilogia ma gli altri due romanzi successivi non hanno nulla in comune con questo l'unico punto in comune è la trattazione del concetto di arte infatti è la trilogia dell'arte ma hanno due storie completano delle storie completamente differenti gli altri romanzi vi lascerò il link amazon non solo del soccombente ma anche degli altri due romanzi se siete interessati e vorreste recuperarle tutti e tre insieme io devo ancora leggere gli altri due gli altri due romanzi sono a colpi d'ascia un'irritazione e antichi maestri che a quanto ho capito andandomi ad informare è più sul livello del tragicomico più che sulla tragedia che sul drammatico ebbene io penso che recupererò anche questi due romanzi appena avrò diciamo preso un po di respiro perché ragazzi ho ancora una varagonata di libri da leggere e basta e niente ragazzi io penso di poter concludere qui il video non penso di poter dire niente scusate se sul finale mi sono preso un poco quei cinque minuti per fare un po di autoanalisi mi sono preso per fare un poco la mia esposizione un po troppo personale ma certe volte penso che le nostre esperienze ci aiutino ad esprimerci meglio su determinati argomenti e quindi ragazzi io il romanzo ve lo consiglio però come vi ho detto dal momento che è uno stile che non è per tutti è uno stile molto atipico è molto difficile vi consiglio di prepararvi prima prima di approcciarvi a questo romanzo di andarci molto tranquilli molto con i piedi di piombo e se non siete abituati al flusso di coscienza dosate la lettura non fate come me che me lo sono divorato in un niente proprio perché non riuscivo più a staccarmi andate piano con con la consapevolezza di quello che state leggendo e niente questo è tutto io concludo qui la recensione e spero che vi sia piaciuto lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto commentate ditemi la vostra se anche voi conoscevate questo romanzo oppure conoscevate già thomas bernard come come scrittore se avete letto qualche altro suo romanzo se magari me ne potete consigliare qualcuno voi e iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video mettete mi piace alla mia pagina facebook seguitemi anche su instagram sempre se volete e per rimanere aggiornati sulle prossime letture del del di letto del nostro club letterario lettori vesuviani vi invito sempre a seguirci sulla nostra pagina facebook a seguirci su instagram e anche sul nostro sito lettori vesuviani vi lascio sempre tutto quanto in descrizione se poi voleste magari anche partecipare in questo periodo stiamo facendo tutti quanti gli incontri su skype perché ovviamente per ovvie ragioni non ci possiamo incontrare perché da regione a regione è difficile muoversi non possiamo creare assembramenti e quant'altro e niente se siete interessati a rimanere informati magari a seguire le nostre letture a mano a mano anche con noi siete i benvenuti anche se venite da da regioni differenti cerchiamo di creare un un grandissimo club letterario ecco magari se riusciamo e sarebbe una bella impresa creare un club letterario che comprende molte le più regioni d'italia e niente e per il per il libro del mese di gennaio non so ancora cosa dirvi perché dobbiamo ancora tenere l'incontro e quindi dobbiamo ancora decidere io come al solito pubblico il video sempre la sera prima il giorno prima del nostro incontro ma vi posso già dire che a scegliere il libro del nuovo anno il primo romanzo del nuovo anno del 2021 che speriamo sia un anno migliore di questo 2020 la scelta del prossimo libro del mese di gennaio s'aspetterà a me quindi prepariamoci vado anch'io a scatola chiusa e ve lo dico e niente e da nostro elusio è tutto ci vediamo e ciao ciao